Buongiorno, siamo il gruppo per le autonomie e abbiamo confermato al presidente Mattarella il sostegno di qualsiasi formazione di governo, pur che sia fortemente europeista, e abbia nel programma la tutela delle minoranze linguistiche e delle autonomie speciali. Devo dire che però anche noi abbiamo una preferenza per un eventuale Conte Ter, perché abbiamo fatto buone esperienze con il presidente Conte, che ci ha sempre dato una mano quando avevamo necessità, e pensiamo che lui sia un punto di equilibrio tra tutti i partiti che formano questo governo, e se togli questo punto di equilibrio è difficile avere una stabilità in governo. Sì, grazie. Oltre a quello che ha già detto la presidente, come rappresentante della Valle d'Aosta, volevo solo anch'io auspicare però una maggior attenzione per la montagna da parte di un futuro governo, anche perché, per quanto riguarda la nostra realtà, ci sono stati degli aspetti critici. Riteniamo che in alcuni momenti non ci sia stata un'attenzione che noi avremmo auspicato verso la realtà alpina, verso la montagna e verso la Valle d'Aosta. Abbiamo quindi, io mi sono permesso di suggerire al presidente della Repubblica di, magari per superare questa, diciamo, riduzione di sensibilità, magari di prevedere un maggiore equilibrio nella rappresentanza territoriale del prossimo elenco dei ministri nel futuro governo. Quindi un eventuale mio appoggio sarà anche conseguente ai reali impegni che il governo si vorrà prendere nei confronti della montagna, della realtà alpina e per quanto riguarda la Valle d'Aosta anche degli importanti tavoli tecnici appena avviati su temi a noi molto importanti. Naturalmente ci sarà molta attenzione al Ristori 5 che si sta costruendo e verso il quale c'è tanta aspettativa nel nostro territorio e naturalmente una considerazione importante auspichiamo per le politiche della montagna nel Recovery Fund che rappresenta sicuramente il documento più importante per la nostra realtà. Grazie. Avete domande? Ovviamente noi siamo dell'opinione che il Paese adesso non ha bisogno di una crisi come questa e che si deve fare presto per garantire stabilità e si deve trovare una formazione politica e non un governo tecnico. Buongiorno Presidente. Lei prima diceva, ci ha detto, che avete espresso una preferenza per il Presidente Conte. chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa, grazie a te. Daniela Preziosi domani. Lei ci diceva, domani, il giornale si chiama domani. Ah, che è. Lei ci diceva che avete espresso al Presidente Mattarella una preferenza per Conte. Abbiamo sentito bene? sì. E in che termini gliel'avete espressa? No, noi pensiamo semplicemente che un governo Conte-Terre è la soluzione che è più, che si presta meglio, che è quasi già sul tavolo. Vabbè, mancano alcuni chiarimenti. Noi pensiamo che non è un periodo per vetti incrociati, che c'era una maggioranza che bene o male ha funzionato e che noi speriamo che riescono a mettersi di nuovo insieme. Pensiamo che sia la soluzione più semplice, perché se vai a cercare un'altra figura di Presidente, non so come reagiscono i diversi partiti. Se tre partiti grandi preferiscono questo nome, mi sembra che si debba lavorare in questa direzione. Grazie. Vederci, buon lavoro. Grazie.